I saldi sono l'occasione per fare anche un bilancio del commercio. Come sono partiti, con quali aspettative e che significato hanno oggi? Le aspettative sono molto importanti sia da parte del commerciante ma anche del cliente perché ha l'opportunità di comprare con degli sconti importanti, dei capi importanti e quindi di rinnovarsi il guardaroba e quindi le aspettative sono buone. Una buona partenza, diceva, ma tra centri commerciali, outlet e commercio online qual è l'avversario più temibile che voi riscontrate proprio nel vostro lavoro quotidiano? Beh, tutti e due sono molto importanti nel timore perché moltissima gente compra online e tantissimi vanno negli outlet. Ma io credo comunque che la qualità rimanga sempre nel negozio di città, di paese, c'è un rapporto diverso tra il commerciante e il cliente, il consiglio, quindi io credo sempre che sia più importante andare nel negozio di fiducia oppure passeggiando per la città scegliere un negozio e fare gli acquisti lì. Avete visto i saldi in giro? Siete in giro per comprare? No, stiamo andando a lavoro. Ah, ok. Vi siete già fatti un'idea delle promozioni? Sono valide? Abbiamo fatto qualcosina, sì, ma niente di che. Abbiamo già comprato quasi tutto. Ecco, come tipo di acquisto privilegiate i negozi del centro, centri commerciali, outlet o commercio online? Ultimamente tanto online, effettivamente. Non sui vestiti, sui vestiti rimaniamo più sugli outlet. Ecco, in generale tra outlet, commercio online, negozio tradizionale, online, per quale ragione? Si risparmia e poi riesce a trovare di più online. Anche perdendo un po' magari la prova, la ricerca? No, ma le taglie non si sbagliano, sono giuste. Lei invece è di un'altra generazione? Mi ricordo assolutamente, io voglio vedere, misurare. Le cose si devono anche toccare con mano per vedere. Online sarà, però non trovo utile io, non fa per me. Diciamo che quando non trovi qualcosa nel negozio tradizionale adesso vai subito su internet a vedere se lo trovi, se magari per ipotesi c'è un prezzo anche migliore. Però ovviamente fare una passeggiata, un po' di shopping è sempre bello, fa sempre piacere.